Possiamo anche manipolare il DOM per agire sul CSS. L'abbiamo visto poco fa nell'esempio, possiamo per esempio cambiare le classi di un certo elemento HTML, le classi appunto CSS, attraverso l'attributo className. Quindi sia recuperare il nome delle classi, sia rimpiazzare. Quindi className rimpiazza l'intera stringa delle classi. Ovviamente usiamo className, non class, perché class è una parola chiave riservata in JavaScript. Ma oltre a rimpiazzare l'intera lista di classi, noi potremmo magari essere interessati ad aggiungere una singola classe a un elemento che ne ha già magari tre, o rimuovere una classe. E allora abbiamo la proprietà classList che ha una serie di metodi che ci vengono in nostro aiuto. Add permette di aggiungere una classe a un elemento che ne ha già altre, anche se ne ha da zero in su. Remove, data un elemento che ha una serie di classi, toglie una classe. Toggle fa la somma di add remove. Se la classe è presente in quella lista di classi, la rimuove. Se non è presente, la aggiunge. Contains invece ci permette di verificare se una certa classe esiste o meno all'interno di quella lista di classi, di quell'elemento HTML, per fare altre operazioni successivamente. Element, dove element è sempre un elemento HTML.style, invece contiene tutte le proprietà CSS di quell'elemento e ci permette anche di manipolarle. Per esempio, element.style.display, uguale a none, ci permette di dichiarare in quel momento al volo che la proprietà display CSS di quell'elemento deve essere impostata a none e quindi nascosta. C'è anche un altro metodo che è getComputedStyle, dato un elemento e altri pseudo-elementi se necessario, che ci dà lo stile, non solo quello dichiarato, ma anche quello calcolato dal browser nel caso ci sia appunto delle variazioni. Notate che questo getComputedStyle non parte da un element, ma è generico, vuole l'element come primo parametro. In generale, per le proprietà come getComputedStyle, che usano più di una parola, viene utilizzato il camelCase. Quindi backgroundColor in CSS, background-color, e il metodo equivalente, la proprietà equivalente, diventa element.style.backgroundColor. E così via. L'altra parte importante che affrontiamo oggi è appunto la gestione degli eventi. Quindi abbiamo visto come manipolare il DOM, ma ora vediamo come agganciare dei comportamenti interattivi alla nostra pagina attraverso la gestione degli eventi. Gli eventi possono essere anche utili per, per esempio, passare informazioni tra una classe JavaScript a un'altra, definendo un evento magari personalizzato su una classe figlio, per passare dell'informazione alla classe padre, in maniera asincrona, in maniera estemporanea, quando questo evento capita. Di nuovo ricordiamo che JavaScript, nel browser, ma anche in realtà nel node, usa un modello di programmazione orientato agli eventi. Quindi tutto è in un certo senso triggerato dal fatto che noi facciamo qualcosa, alcun evento scatti. Quindi facciamo un esempio. Questo è che scorre in automatico a un evento che sarà un timeout che scatta. Se premo qui c'è l'evento di pressione, di clic del mouse. Quando scrollo c'è l'evento di scroll. Quando clicco su questo menu e si apre questo c'è l'evento di mouse over, perché ho messo il mouse sopra il menu e così via. Gli eventi sono determinati da due proprietà. L'elemento che genera appunto l'evento e il tipo dell'evento. JavaScript appunto, come dicevamo prima, supporta tre modi di definire gli event handler. Quindi come gestiamo questi eventi in maniera simile a come facevamo con set and out, se vi ricordate. Si può definirli in line, si può definirle nel DOM direttamente con degli handler on event, on event, oppure utilizzando il metodo add event listener, che è il modo, come scritto nelle slide, moderno e quello consigliato e quello in realtà da fare, non gli altri due. Giusto per completezza, cos'è l'inline event handler? È la possibilità direttamente in HTML di scrivere on click, se siamo interessati all'evento di click del mouse su questo elemento, uguale una funzione o una porzione di codice JavaScript da eseguire. Quindi quando si clicca su questo link viene scatenata questa funzione. Questo di nuovo, raramente utilizzato oggi, possibilmente da evitare. È anche possibile definire appunto degli event handler a livello di DOM, quindi in un certo senso a livello di window. In questo caso, window.unload, vedete, definiamo che quando si carica la finestra succede questo codice qui. Quindi assegniamo una callback, in questo caso una funzione, un arrow function, ha una proprietà speciale, in questo caso un load, oppure ha appunto un click, se vogliamo come prima, ma ovviamente possiamo assegnare solo una callback, perché lo definiamo solo una volta nella nostra porzione di codice. Il modo un po' più moderno e anche flessibile è quello di aggiungere tanti event listener quanti vogliamo. Quindi tanti metodi che agganciano da una parte l'evento che viene scatenato e dall'altro che cosa vogliamo che succeda quando questo evento si scatena. E si fa attraverso con questo event listener. Questo event listener, vedete, ha due parametri. Il primo è l'evento da intercettare, il caricamento della pagina, l'onload come prima, il click del mouse, il mouse down, quindi il fatto che ho premuto il bottone del mouse in basso. C'è anche il mouse up, quindi quando ho rilasciato il bottone del mouse. E insieme, mouse down e mouse up, fanno un click del mouse, che è un altro evento. Quindi dico, quando succede questo evento, esegui questa callback. Ricordate sempre l'event loop come funzionava. Quando eseguo questo evento, esegui questa callback. Quindi per esempio, qua diciamo, prendo un elemento che è un link, suppongo, a questo link aggiungo un event listener. Quale event listener? Quando premo il mouse, appena ho premuto il mouse, voglio stampare in console le proprietà di questo evento. Quindi in questo caso stamperà per esempio 0 e 2. Quindi le proprietà specifiche di questo evento di pressione di bottone. Quindi le proprietà legate a mouse button. Dove appunto 0 se ho premuto il bottone sinistro e 2 se ho premuto il bottone destro. Quindi qual è il bottone, in questo caso l'evento ha qual è il bottone. E quest'arrow function, vedete, può non avere parametro, oppure avere un parametro che è event, che è esattamente l'evento che è stato scatenato. Nel caso ci interessa se recuperare qualche informazione dell'evento che è stato scatenato. Un oggetto di tipo eventi ha tre proprietà principali. Target, il tipo di, l'elemento DOM che ha originato l'evento. Tipo, il tipo dell'evento. Quindi target ha il link di prima, type il mouse down e stop propagation che è chiamato per fermare la propagazione dell'evento nel DOM. Perché? Perché ovviamente noi quando premiamo per esempio il tasto di un mouse scateniamo un evento. E se abbiamo 5 eventi handler, tutti e 5, su quella, certo, magari abbiamo un event handler sul link per click, per il mouse down per esempio, e poi abbiamo lo stesso event handler su il document, quindi che contiene il link. E allora in quel caso magari vogliamo in certi casi che quando premiamo il link succeda qualcosa solo sul link, ma non venga anche generato l'altro event handler, che non venga chiamato anche l'altro event handler. Quindi che questo evento non si propaghi dappertutto, ma una volta che ha fatto il suo compito venga stoppato lì. E questo metodo stop propagation serve appunto per fermare la propagazione dell'evento una volta che è stato intercettato dall'elemento che è interessato. E qui c'è una tabella, credo che voi la possiate cercare anche su Wikipedia, dovrebbe esserci, che ha una serie di categorie dell'eventi. Ci sono gli eventi dell'interfaccia utente, il caricamento di una pagina, eccetera. Ci sono eventi sul mouse, click, doppio click, mouse over, quindi quando appoggio qualcosa, l'inizio del drag, il drop, eventi sulla keyboard, sulla tastiera. Ho rilasciato un tasto, ho premuto un tasto e probabilmente leggendo la proprietà dell'evento scoprite qual è il tasto premuto. Ci sono degli eventi legati a form, che vedremo dopo, cosa sono i form, come submit, change, input. Ci sono eventi di manipolazione del DOM, il fatto che il DOM, il contenuto del DOM è stato caricato completamente. Ci sono elementi HTML5, dati invalido, pagina invalida, il dato è stato caricato, eccetera. E anche eventi legati al CSS, come per esempio la fine di un'animazione, o eventi del temout, e così via. Come funziona la gestione degli eventi sul DOM? Quindi, innanzitutto qualcosa capita. Ho premuto un mouse, ho fatto click col bottone. Allora, prima di tutto c'è una fase di cattura. Cioè l'evento, da window, perché ovviamente io l'ho premuto nel browser, è passato in tutti gli elementi fino a, appunto, in fondo. A quel punto l'evento trova il suo target e viene scatenato il suo event handler. E questo è il suo event handler, per esempio, ecco, è questo qui. In questo caso era il T2. Un link, un click attaccato sul T2. A questo punto, quindi, prima di tutto c'è la fase di cattura in cui si cerca, in un certo senso, chi è il suo event handler, specifico. e quando lo si trova, viene eseguito la callback relativa e a quel punto c'è una chiamata, c'è questa bubbling phase, c'è un ritornare verso window. Quindi, prima di tutto si cerca se quell'elemento, in questo caso abbiamo un click abbinato al T2, se quell'elemento ha un event handler e cosa deve fare. Quando si trova quell'elemento, viene scatenato il suo event handler e poi c'è questa fase di bubbling, in cui una volta che questo event handler è scatenato, se non si stoppa la propagazione col metodo stop propagation che abbiamo detto prima, questo evento torna verso l'alto e se incontra degli altri event handler vengono triggerati. Questo, da una parte, può essere utile se noi vogliamo, magari, triggerare un evento qui e poi, una volta che l'abbiamo triggerato, non ci interessa se venga anche triggerato in precedenza, ma in altri casi, invece, vogliamo che una volta che è stato triggerato qui stoppare la propagazione e quindi evitare questa fase di bubbling. Quindi, cosa succede, ripeto, cosa succede quando succede qualcosa nel browser? Quando clicchiamo, per esempio, un link o clicchiamo su un td, questo evento di click viene navigato nel DOM fino a raggiungere il suo target, quando viene raggiunto il suo target viene eseguito la callback relativa all'event handler, a quel punto parte una fase di bubbling che fa scatenare le eventuali event handler legate allo stesso tipo di evento, tra tutti i padri del DOM fino ad arrivare a window. Per stoppare, per evitare che eventuali padri facciano scatenare il proprio event handler, bisogna usare il metodo stoppagation per stoppare questa propagazione, dal figlio verso il padre. Di nuovo, a volte ci interessa, a volte invece no. Proprio perché appunto gli eventi propagano, una volta che è scatenato quello che ci interessa, dal quello principale, quindi clic che è stato fatto su quel td di prima, affino a tutti i suoi parent, e questo ovviamente è una cosa che capita per ogni singolo evento. Molti eventi, questo bubbling va bene sia per, se abbiamo event handler separati che vogliamo gestire, sia anche nel caso di default handler. Magari in questo caso abbiamo un bottone, vogliamo far sì che questo si comporti in qualche modo, e poi vogliamo magari che questo container si comporti in maniera diversa, vogliamo un comportamento di default su questo container. Allora, questo comportamento di default possiamo crearlo noi, o in alcuni casi esistono già dei comportamenti di default. Quando noi facciamo clic su un link, il comportamento di default è apparire la pagina di quel link. Allora, se noi volessimo, se qui invece di un div e di un button, noi avessimo qui un link e qui un altro, un qualcos'altro, e volessimo solo, e volessimo intercettare clic qui, ma volessimo stuppare il comportamento di default, potremmo utilizzare la stoppagation, oppure in generale potremmo utilizzare prevent default. Quindi, quando sappiamo che andremo a specificare un event handler specifico all'interno di un qualcosa che ha già un evento di default, o vogliamo rimpiazzare un evento di default, come il clic sul link con un qualcosa di predefinito, possiamo o scrivere quello predefinito e poi stoppare la pagazione, oppure, se stiamo agendo, se questo evento di default è per esempio su un padre, oppure se questo evento di default è sullo stesso elemento su cui noi stiamo agendo, possiamo utilizzare questo prevent default. Quindi, per esempio, vogliamo applicare un event handler su un link, sul clic di un link, quindi prima di tutto stoppiamo, preveniamo, il comportamento di default, che è quello quando clicco, apro la pagina corrispondente, e poi definisco il mio event handler specifico. E qui, appunto, vedete, c'è un esempio, sempre sul mouse down, sempre su un link, in cui c'è un qualcosa, poi fa events stoppagation per stoppare il bubbling. Ci sono, come vi dicevo, anche eventi relativi alla pagina, al ciclo di vita della pagina, DOM content loaded, definito su document, ed è un evento che viene scatenato automaticamente, e non intercettato, ma possiamo ovviamente scrivere un event handler per intercettarlo, quando il browser ha caricato, ha dato una pagina web, tutto l'HTML e il DOM è pronto. Magari non ci sono ancora risorse esterne, non si è ancora caricata del tutto l'immagine, non si è ancora caricato del tutto il video preso da YouTube, ma la pagina HTML è pronta e il DOM è pronto. E questo è l'evento DOM content loaded, quindi si è caricato il contenuto del DOM, ed è definito su document. L'evento load, che abbiamo visto qualche slide prima, è definito su window, ed è invece un evento che viene scatenato quando il browser finisce di caricare tutte le risorse esterne, quindi non solo la pagina HTML, non solo il DOM pronto, ma anche tutte le eventuali risorse esterne, quindi CSS, le immagini, i video e quant'altro. Altri due eventi, il perform unload e l'unload, sono invece eventi di uscita, quando l'utente sta per lasciare la pagina o appena ha lasciato la pagina. Questo ovviamente è un po' un dovinare, in un certo senso, perché come facciamo a sapere quando l'utente sta per lasciare la pagina? Ha quasi cliccato sul click per chiudere il tab, ma non l'ha ancora finito di cliccare. Quindi questi non sono totalmente reliable, esistono, ma non sono totalmente reliable. Ci sono poi tutta una serie di altri eventi, che per esempio potete guardare qui, se siete curiosi, per esempio c'è S-focus, c'è S-visibility, se è cambiata la visibilità, quindi se per esempio la finestra è andata dal focus a... non sotto il focus, vedete che c'è questo before unload come prima, c'è il paid show, c'è il resume, il freeze e quant'altro. Ci sono infine alcuni eventi che non sono scatenati solo ogni tanto, come l'evento di click, che viene scatenato solo quando voi fate click, ma ci sono eventi che vengono scatenati in continuazione. Per esempio, quando siete a una pagina e fate così, questo è un evento che continua a essere scatenato, perché io sto continuando a muovere il puntatore, oppure quando scrollo. Questo di scroll è un evento che viene continuamente scatenato, perché non sto scrollando un pixel, sto scrollando un pochino, una distanza diversa, di volta in volta, perché è un movimento diciamo quasi continuo, non è discreto come il click, o come la pressione di un tasto. e questi vengono scatenati continuamente e all'interno dell'evento ci sono le coordinate tipicamente in cui questo evento è stato, è iniziato e è finito di eseguirsi. Perché? Perché se c'è bisogno si può tracciare in questo modo il comportamento, il fatto che io mi sono mosso da queste coordinate a queste coordinate, oppure la pagina si è mossa da questa coordinata a quest'altra coordinata quando ho fatto scroll. Quindi posso tracciare e intercettare questo comportamento. Ovviamente, essendo eventi che si vengono eseguiti in continuazione, se sono intercettati e vengono effettuati degli eventi, delle operazioni un po' pesanti, un po' complesse, la pagina rischia di rallentare. Perché immaginate che io abbia un evento che faccia qualche conto ogni volta che scrollo. Qui probabilmente l'ho già chiamato 5-6 volte. Man mano che scrollo lo continuo a chiamare in continuazione. Quindi magari non finisce di essere eseguito prima che deve già ricominciare perché ha nuove coordinate di scrolling. Essendo, come dicevo, eventi che possiamo immaginare quasi come continui. Quindi rischia di rallentare la pagina, rischia di dare una brutta esperienza utente. Come si trattano questi eventi di throttling, di questi eventi che vengono scatenati continuamente, si usano o librerie esterne, oppure si usano i timer, il set time out, per processarli solo periodicamente. Quindi per esempio, c'è un evento di scroll, benissimo, l'evento di scroll lo considero una volta ogni mezzo secondo. Boom. Se in quel mezzo secondo ho scrollato di nuovo, avrò le coordinate probabilmente aggiornate, se mi interessano, ma non andrò a verificare quell'evento di scroll ogni millisecondo, ogni nanosecondo, o cose così, ma solo in tempi ragionevoli per quello che mi serve a fare, mezzo secondo, un decimo di secondo, 100 millisecondi e così via, 10 millisecondi, ma non in continuazione. Quindi o con le brevi esterne che limitano in questo modo, per esempio, questi comportamenti, oppure con un set time out, che vedete si scrive come l'abbiamo sempre scritto in node, che appunto permettono di processare l'evento solo di tanto in tanto, quando ci serve.